A San Martin-Laporte in Francia, ieri è stato inaugurato il nuovo cantiere della futura Torino-Lione. La Talpa Federica scaverà un nuovo culicolo esplorativo sull'asse del tunnel di base. Luca Ponzi. Per la prima volta due frese scavano in contemporanea, una verso l'altra, il tunnel della Torino-Lione. Ieri il premier francese Manuel Valls ha inaugurato i lavori della fresa, battezzata Federica, che dal cantiere di San Martin-Laporte in Savoia scaverà la galleria geognostica di 9 km, che sarà poi il futuro tunnel di base della Torino-Lione. In Italia la Talpagea sta continuando il suo scavo verso la Francia nel cunicolo esplorativo di Chiomonte. Già percorsi 5,5 km, ne mancano ancora due. Alla cerimonia, iniziata con l'inno alla gioia, era presente anche il direttore generale di TELT, Mario Virano. Si è notata invece l'assenza del governo italiano. Il premier Renzi, annunciato nei giorni scorsi, è rimasto a Roma. Virano ha voluto sottolineare come l'inaugurazione dimostri che la Torino-Lione è un'opera in corso e non più un progetto. Ha poi evidenziato che complessivamente si dovranno realizzare 160 km di galleria. Oggi siamo al 10%. Il cantiere francese è uno dei più impegnativi, costo 391 milioni di euro. La fresa pesa 2400 tonnellate e ha una potenza pari a 8 motori di Formula 1. Attualmente vi lavorano poco più di 400 persone.